Il coronavirus ha sconvolto le nostre vite e le società globali. Un'Italia zona protetta. Le conseguenze saranno lunghe e dobbiamo ancora comprendere. Dagli equilibri geopolitici in rapida ridefinizione all'impatto economico devastante su ampie fasce di popolazione. Dalla nuova consapevolezza per il modo in cui evitiamo il pianeta e viviamo le città all'impatto dell'accelerazione digitale sul lavoro, cultura, informazione e scuola fino alle ripercussioni sulla famiglia e sugli equilibri di genere. Dal 30 ottobre al primo novembre a Modena è in streaming il mondo dopo la fine del mondo per ragionare sugli scenari che ci aspettano e su quello che è già cambiato. Grazie per la visione! Grazie per la visione!